Un calendario di storie, di storie quotidiane che raccontano l'amore e l'orgoglio di indossare una divisa, quella dei carabinieri. Si può riassumere con queste parole il calendario 2020 dell'arma presentato in tutta Italia e di cui ne è già stata fatta una tiratura di oltre un milione di copie. Nato nel 1928, la pubblicazione del calendario è giunta alla sua 87esima edizione. È un calendario che oltre ad essere bello da vedere sarà anche molto bello da leggere perché quale elemento di novità abbiamo oltre alla tradizionale illustrazione di temi che riguardano il nostro servizio e comunque la nostra storia e anche l'inserimento di 12 storie di straordinaria quotidianità, di ordinario eroismo dei nostri militari che con tante piccole quotidiane azioni confermano la vocazione dell'arma per il servizio soprattutto nei confronti delle fasce più deboli della popolazione. Un calendario dunque narrativo con un layout completamente rinnovato arricchito dalle tavole di Mimmo Paladino tra i massimi autori contemporanei celebre esponente della trans-avanguardia con esposizioni anche al Metropolitan Museum di New York accompagnate dai toccanti testi di Margaret Mazzantini, scrittrice di fama mondiale per raccontare i gesti di eroismo quotidiano dei carabinieri che in silenzio ogni giorno compie un'azione in favore di chi ha bisogno in quell'ottica di avvicinamento alla gente che rende da secoli questa divisa, come la più amata da tutti. Il calendario da appendere insieme a quello da tavole al planning si possono acquistare presso tutti i comandi italiani o tramite abbonamento alla storica rivista dei carabinieri. Non c'è nessun altro che autorizzato alla vendita di questi oggetti, i quali, essendo prodotti di culto, vanno spesso a finire nelle mani di venditori non autorizzati.